Io credo che incoraggiare le ricostruzioni, l'adattamento degli edifici o i nuovi edifici incoraggiando proprio la tecnologia ecologica, utilizzando anche materiali ecologici credo che sia un fatto estremamente positivo. Spero che poi dalle risoluzioni si passi ai fatti perché molto spesso ci troviamo anche di fronte a politiche contraddittorie della Commissione, cioè in una certa fase si è incoraggiato il solare e adesso per esempio si è incoraggiato l'eolico, un eolico per esempio di cui la Sicilia non ha bisogno perché ha raggiunto i massimi livelli di concentrazione, mentre per noi sarebbe molto importante il fotovoltaico. è ovvio che spesso anche nella scelta tra l'eolico e il fotovoltaico c'è quello di favorire più le aree del nord che non quelle del Mediterraneo, quindi ci strenoviamo di fronte. Credo che sia molto bella questa risoluzione attorno all'utilizzo di materiali ambientali. Io credo che sia un ruolo importante quello di quest'area, anche se la Sicilia in qualche modo ha una vocazione più mediterranea in termini più globali, come in quanto regione al centro del Mediterraneo. però è ovvio che ci sono tutta una serie di aspetti che riguardano i traffici, le vie di comunicazione, le rotte che potrebbero sicuramente coinvolgerci e che sono estremamente interessanti per regioni come l'Emilia Romagna, ma anche come le Marche, la Puglia, la Sicilia, che riguardano proprio questa collocazione. Ripeto, ci saremo, lavoreremo, perché credo che sia una realtà che dobbiamo potenziare.